Ciao amici di ValdoTV, bentornati. Oggi siamo qui a Feltre per conoscere un altro nuovo giovane talento, Crescere. Abbiamo già conosciuto la nostra amica Stefania Geronazzo, campionessa di motosega, e oggi siamo qui con Mattia Zanini. Ciao Mattia, allora raccontaci un po' chi sei, da dove vieni, quanti anni hai, cosa hai fatto. Ciao a tutti, sono Mattia Zanini, ho 20 anni, ho studiato presso l'Istituto Agrario di Vellai e nel mio tempo libero mi dedico al fai da te, oltre alla musica. Infatti noi oggi siamo qui proprio per vedere un po' di tue creazioni artigianali che hai fatto, che stai producendo, per farti conoscere appunto come artigiano, diciamo. Sì, certo, è iniziato tutto tre anni fa, un po' a caso, diciamo, perché vedendo il papà e la mia morosa fare un po' questi lavori nel fai da te, ho detto perché non provare? Ho sempre avuto un po' questa passione e pian piano ho sviluppato un po' di tecniche, ho imparato, ho comprato un po' di utensili che servono a migliorare il lavoro e pian piano sto sviluppando questo canale YouTube in cui mi piace mostrare quello che faccio, come lo faccio, perché come anch'io ho imparato guardando anche su YouTube, mi piace poter insegnare agli altri e essere utile per gli altri. Beh, ma allora Mattia, noi siamo curiosi di vedere un po' quello che fai, allora vuoi mostrarci qualcosa? Certamente. Allora, questo è il primo lavoro che ho effettuato, uno dei primi, circa tre anni fa, è un appendi abiti, un mezzo, che ho la struttura effettuata con legno recuperato dai pallet, mentre il supporto dove vengono appesi gli abiti è con dei tronchi recuperati. Questo è il boccale del mio primo video su YouTube che ho effettuato circa una settimana fa e questo è un cofanetto, sempre con lo stesso legno di betulla utilizzato per il boccale che prossimamente verrà fuori il video per mostrare a tutti quanti come l'ho effettuato. Mattia, ci puoi far vedere dove dai vita a queste piccole creazioni? Così mostriamo un po' il tuo laboratorio. Il laboratorio è veramente ben curato e ordinato e quindi toglici anche un'altra curiosità. Fai solo questo oppure hai altri lavori? Allora, appena finita la scuola ho lavorato per dieci mesi in un'importante latteria della zona e successivamente ho lavorato per due mesi come giardiniere e quindi dovevo consigliare il lavoro con il mio tempo libero, quindi col lavoro dedicavo magari una o due ore al giorno, mentre adesso che sono a casa, disoccupato, riesco a dedicare anche 4 o 5 ore al giorno, tutto il pomeriggio, e quindi riesco a effettuare più lavori. E con questo amore per il legno, queste creazioni, intendi farci proprio qualcosa di importante o lo tieni solo come hobby? Ma per ora punto a tenerlo come hobby, però se in futuro dovesse rivelarsi una cosa che può darmi da vivere, diciamo, sarei molto contento di fare ciò. Grazie Mattia di averci fatto conoscere questo tuo piccolo habitat e vuoi fare un ringraziamento magari in particolare a qualcuno. Voglio ringraziare il mio vecchio e caro amico Sebastiano Bortolin che mi ha sempre insegnato a credere nei miei sogni e ora lo sto facendo ciò che mi piace.